Dopo settimane di confronti, il Consiglio Comunale di Pesero ha approvato il piano antenne con valenza triennale che aggiorna un regolamento datato al 2006 e un piano di installazioni risalente a quattro anni fa. Si tratta di un piano elaborato con Polab che riduce da 135 le proposte di nuove antenne, che saranno inserite privilegiando siti di proprietà comunale in cui l'amministrazione non prenderà atto soltanto delle scelte del gestore di telefonia, ma le porterà ad una consultazione annuale del Consiglio Comunale. Ad oggi, rispetto al 2006, i gestori devono presentare questi programmi di sviluppo e quindi queste proposte, che sono delle proposte di localizzazione delle antenne, come voi sapete qui a Pesero nel 2023 siamo arrivati a un centinaio di proposte di localizzazioni e quindi di possibilità di scelta da parte di gestori di telefonia mobile di mettere le antenne in queste determinate zone. Entro il 31 marzo di ogni anno invece adesso viene fatto annualmente questo programma di sviluppo da parte di ogni singolo gestore, che può essere in ripetizione di quelle degli anni precedenti oppure con nuove proposte. Un impegno a concertare esigenze tecnologiche ed esigenze paesaggistiche non reputate sufficientemente adeguate dal consigliere comunale di maggioranza Davide Manenti, ex presidente del Parco San Bartolo, che ha abbandonato l'assise riconoscendo sì l'esigenza di un piano regolamentare, ma contestando nell'approccio metodologico a cominciare dalla cosiddetta antenna cotonfiocchi installata a Fiorenzuola di Focara, reputata inaccettabile come l'annessa previsione di ulteriori installazioni fra le aree abitate di Fiorenzuola e Cattabrighe. L'obiettivo nostro è quello di arrivare da una tutela integrale di quello che è l'ambito del Parco e del Preparco. Sono convinto che con uno studio attento, un approccio metodologico diverso, si potrebbe arrivare a raggiungere gli stessi obiettivi sia di erogazione del servizio da parte dei gestori, sia di dare la possibilità ai frequentatori del Parco di poter usufruire del servizio stesso. Noi non possiamo per nessun motivo, nemmeno io poi, più che noi come lista, ma io anche come persona, avvalare un regolamento del genere. Come atto di chiarezza da questo punto di vista, oggi io lascerò questa assise, quindi come dimostrazione di protesta, e non continuerò a partecipare al Consiglio Comunale di oggi, in forma di protesta per questa situazione, finché l'antenna di Fiorenzuola non verrà spostata e finché non ci sarà un qualcosa che tuteli integralmente quello che è il San Bartolo. Io non lo chiamo Parco, io lo chiamo il nostro territorio. Un gesto quello di Manenti che non ha lasciato indifferente il sindaco Ricci. E mi dispiace che il Consigliere Manenti è andato via, perché ovviamente nulla di personale, Manenti è un amico, Davide è un amico, quindi ci mancherebbe altro. Però non è che nel San Bartolo non possiamo mettere nessun'antenna, perché è dieci anni che mi dite che non prendo il telefono sul San Bartolo, che è alla spiaggia di Fiorenzuola, c'è un problema di sicurezza, che se succede qualcosa non c'è, non si sa chi chiamare, perché non si riesce a fare neanche dalla telefonata, ma che me le invento io queste cose qua? E quell'antenna che io ho chiamato Cotton Fioc perché è bruttissima, è un'antenna che ha avuto il parere favorevole di tutti, a iniziare dal Parco San Bartolo, no per essere chiari, dalla sovrintendenza di tutti, poi quando l'ha messa su ci si è resi conto che era brutta. Adesso che cosa stanno facendo i miei uffici? Stanno trattando con il gestore, che potrebbe mandarsi tranquillamente a quel paese, di abbassarla, di cambiare l'involucro, di migliorarne l'impatto, perché noi comunque dobbiamo far arrivare il segnale sotto, cercando di ridurre l'impatto paesaggistico. Sul tema Manente ha ribattuto che non si tratta di un problema di accessibilità telefonica, ma di impatto ambientale visivo in cui diventa urgente integrare l'antenna al contesto paesaggistico in cui si trova.